Un Martina Cinico batte il Catanzaro e fa un eccellente passo avanti verso la salvezza degli Itriani, le occasioni più nitide del primo tempo. Bella conclusione di Arcidiacono neutralizzata da Bindi, addominuto dal termine della prima frazione. Arcidiacono per la corrente Pepe che di sinistro calcia in porta. Conclusione frenata da un braccio di Rigione, calcio di rigore che il capitano Pietro Arcidiacono trasforma. Nella ripresa il Martina gestisce il vantaggio sfoderando una tenuta atletica nettamente superiore rispetto a quella dei calabresi. A testimoniarlo ecco la sgruppata del neoentrato Calombo che propizia il secondo calcio di rigore per i biancazzurri. La trasformazione di Arcidiacono è ancora una volta impeccabile e vale il definitivo 2-0.